Bene, Wonder Jory Channel, siamo qua in trasferta, siamo qua, siamo carichi, questo è il Wonder Team, con Fidel Mazzu, Nollens, Diego DT, Diego Tekken, Giulio Pagano, cosa dici? Sei carico, sei carico, qua ci sono le armamenti, armamenti ragazzi, qua si fa sul serio, non si scappa. Abbiamo il tifo per voi, abbiamo il tifo del King, quindi cercheremo di difenderci bene e vi faremo vedere come saremo vestiti e attrezzati da veri combattenti, guerrieri, soldati. Restizione dei soldati, guarda qua che vero Wonder Team, come è Annalisa, qua largo, stretto, questo qua è un vincente ragazzi, un vincente, gente che non ha paura per i soldati. Faremo un resoconto post-competition, siamo qua per vincere, siamo qua per killare, only headshot for Wonder Team, only headshot for Wonder Team. Mosè già teme, Mosè già teme, nella rivalità. Eh, l'ha detto a posto, insomma, mi cazzai. Ma no, l'ha detto a posto. Scivolata, scivolata tattica, la Verdansk, soldato di Verdansk. È così che si fa? È così, non ha paura. Allora, sono pronto. Wonder Team, BS, Wonder Giorgi Channel, il team da sciottare, il team da sciottare. Esatto, madonna mia, che best, cioè guardiamo bene la tenuta. Vediamo, vediamo. Attenzione. Faccio ammazzare, ma sta registrando qua. Sì, 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 sta registrando. Minchia, che si mette il casco. Attenzione al fede, mamma mia, mamma mia. Un uomo pronto, un uomo nato. Attenzione, Wonder Giorgi fa un tiro di prova. Tirato. Bene. La partita dura otto minuti, tutti alla base. 12 viti a testa. 3, 2, 1, via. Silenzio di tomba. Eccoli, eccoli. Si sentono dei rumori. Dove, dove? Questo campo è duemila metri quadri. Mica pizza e fichi, come direbbe Gesù di Nazareth. Ecco il primo che si vede in lontananza. No, l'avevo vista. Si è nascosta. Oh. E' che così è difficile da. No, l'avevo vista. Ehm! Oh. Oh. No! Il suo salgato! Oh. Ok, eh. Oh. 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 Cioè dice, io praticamente, ok, adesso lo vedo, se sta scappando, cos'è? Si sentono solo i rumori, ma praticamente sono dietro gli alberi. Attenzione, attenzione, che vuoi? Buono, vai alla base e riparti! 11 pari, vai alla base, una volta che siete alla base ripartite chi è stato preso. Vai, vai, una volta che sei alla base parti pure! 11 pari! Usate tutto il campo! 1 pari! Eh si, è là che si! Un po' di! Che pelo! Sì, dove è? Sì, ma a me l'unico che sembra che stia giocando è il Fede! Sento parlare solo lui! Ho fatto mille avalzo nessuno! Figa! Male male! Oggi, vedi? No, no, vai alla base e riparti! Attenzione, José è dietro lì! Siamo ancora a 12 pari! Reza, alza, vai là Bene Wonder Team ha vinto Per quanto abbiamo vinto 120? 120,99 120,99 Grazie anche al tifo di Giulio Pagano Hanno vinto E quindi niente, siamo soddisfatti Una volta prossima ci sarò pure io Prossima volta GoPro direttamente Per aumentare il livello delle riprese Però doveroso Joe, vieni a vedere Nooo Mostra, mostra Sotto shock Sotto shock Piccolo appunto, piccolo appunto conf Piccolo appunto conf Distanza minima per sparare tre metri Mi sparo da uno e mezzo Sì, 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 no Quello confermo Erano almeno quattro Almeno, no, tre e mezzo Sì, 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 sì